Hey guys, qui è il vostro Gianni Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Oggi raga ritorniamo nelle Bedros, nei server di iPixel, ma non solo, solo perché come potete vedere qui di fianco a me abbiamo un nuovo ospite, It's Mastro! Bella raga! Oggi raga abbiamo anche lui in compagnia, l'ultima volta che avevo fatto un video nelle Bedros è stato anche in compagnia di qualche altro youtuber, ma non mi ricordo molto bene. E oggi ritorniamo nelle Bedros in duo e vediamo un po' di riuscire a cavarcela. Tu sei pronto mio caro Mastro? No. Già, ti vedo convinto, guarda, infatti, eh? Molto convinto. Va bene, ad ogni modo, mi raccomando ragazzi, se volete vedere altri video di questo tipo sulle Bedros anche in compagnia mi raccomando, vi ricordo di lasciare un bel like per altri video di questo tipo, condividete il video con i vostri amici iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina per non perdervi nessun video del canale. E naturalmente in descrizione troverete anche il link del canale di Mastro. Guini mi raccomando, datterò il seguito di tutti quanti, cliccando il link in descrizione. Subito, subito, proprio ve lo obbliga lui, eh? Va bene, detto questo, non perdiamo molto tempo raga e cominciamo avviando le prime partite nelle Bedros! Ok ragazzi, prima partita, ci siamo! Spero proprio che te sei proprio preparato, eh, per le Bedros. Sì, sono qua, sono qua. Va bene, e tu, mi pare che te la cavi molto bene comunque con le Bedros, se non sbaglio. Giusto? Vabbè, dai, almeno cerchiamo di fare del nostro legno, dai. Anche se non vogliamo tagliardare così tanto, ma vabbè. Io comincio subito a dover barricare il letto e tu invece, boh, pensa a difendere, dai. Sì, io guardo, io guardo te che fai il letto. Vabbè, ma sta tranquillo, sta tranquillo. Già barricato, ora mi faccio un po' di alti blocchi. E subito la spada. Ok, già subito il letto bianco. Controllo se arrivano anche gli alti da altra parte perché vedo i verdi. Non credo che i verdi ci vogliono da fastidio, quindi appena puoi. Aspetta che io vado gli stuggi il letto. Ottimo. Gli stuggiamoli, forza. Eccoli, eccoli. Ok, uno è andato. Oh, perfetto. Torniamo indietro perché ci potrebbero arrivare anche i verdi. Già gli celesi sono andati. Sì, anche i blu stanno già per andare. No, si è caduto. No, vabbè, non importa, non importa. Chi ti ha ucciso? Eh no, si è caduta da solo. Ah, si è caduta da solo. No, non importa, non importa. E anche io sono caduto come un deficiente. Mannaggia, oh. Comunque si vede proprio che siamo proprio negati in questo movimento. Vai, è la prima partita in questo momento che stiamo facendo. Quindi a me dobbiamo riscaldarci. Allora. È vero. Andiamo subito a prendere i diamanti. Tu occupati della base. Oh, perfetto. Anche la scuola bianca è andata. Ah no, la grigia. La grigia si sta per andare. Ottimo. Ah, non serve a niente collegarmi qua. Perfetto. Mi sono collegato per nulla. Top. Bene, i diamanti, quattro ce n'erano? Quattro. A questo punto due li uso per potenziare l'armatura e due invece per la forgia. Dobbiamo stare attenti perché ci sono ancora i verdi, forse, vero? Sì? Sì. Sì, i verdi sono da altra parte, ma non sono interessati a niente a quanto pare. Anche perché adesso abbiamo tutta la zona dei diamanti per noi e se è possibile dobbiamo potenziare la forgia. Almeno con le fireball possiamo distruggere il letto. a meno che non hanno il legno lì davanti. Speriamo che no. Faccio una robetta adesso. Ti sei fatto l'armatura e hai fatto bene che ti sei fatto l'armatura. Ora, se riesco provo ad andare a prendere anche gli altri diamanti che sono da quella parte. Oh, gli stanno robendo così i verdi. Ci stanno arrivando? No, no, gli hanno rotto i verdi. Ah, ok, perfetto. Quindi stavano rimasti. Oh, noi stiamo gli unici con il letto. Andiamo dai pink, dai pink andiamo. Sicuro? Va bene. Aspetta un attimo che prendo alcune cose. Perché tanto i rosa e i verdi sono senza il letto, quindi basta soltanto ucciderli ed è fatto, capito? Eccolo. È caduto una sola rosa! Che scemo! Ok, è rimasto solo il verde. Vediamo, vediamo. Vado lo verde, vado lo verde. Ok, nel fatto che ci vai, io moltifico un po' la basse, aumentando un po' la difesa. Va bene, arriva il verde. Sta arrivando il verde dai blu. Ci va verso di me. Ok, aspetta che allora posso farmi la fireball? Sì che posso farmi la fireball. Ammazzato. Ammazzato? Bravissimo! Sì, abbiamo vinto. Vittoria! Perfetto, non c'è una questione della fireball. Ok, cominciamo con la seconda partita. Nella prima l'abbiamo stravinta. Dai, almeno potevamo cominciare molto peggio, ma ce la siamo cavata. Dai, abbiamo fatto soltanto fuori un team e gli altri si sono fatti fuori da soli. Uno poi è caduto anche da solo. Per la paura, giustamente hanno avuto paura. Vabbè, dai, vediamo se anche nella seconda riusciamo a fare anche una seconda vittoria costitutiva. Sì, ovvio, ovvio. Tu sei proprio convinto che riusciamo a fare una seconda partita. Non è mica detto, ancora bisogna vedere. Allora, dai. Stai soppressione di prima, io mi occupo del letto e tu la difesa. Mi sono fatto già il piccone di ferro. Con il piccone di ferro dovevi distruggirlo per forza. Sì, sì, ti lancio il volo e glielo rompi. C'è già un giallo che sta andando direttamente lì, eh. Aspetta che mi facciamo l'armatura, aspetta. Occhio! Oh, voleva lanciarci la fireball, lo sapevo. Allora, guarda, lo facciamo più questa cosa. Il verde, ah, non erano i blu. Ok, allora, guarda, me lo faccio anche io la fireball. Lo sapevo che ti lanciava la fireball e sei morto. Sapevo, eh, però sono caduto lo stesso. Vabbè, non importa, non importa. Cerco di tenere le bada, se riesco. Ok, fatto cadere uno. Arrivo, arrivo. Vieni subito qua. Ma se ti lanci, io lo vedi a spaccare. Eh, no, ma il problema è che loro stanno lì, loro, eh. Ok, uno è caduto. Vai, vai. Ammazza questo qua. Vai, vai, spacca, 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 spacca. Aiutami, aiutami. Proteggimi, proteggimi. Non mi fa chiudere. Di sotto. Perfetto, perfetto. Ti salvo, ti salvo. No. Ok, morto. Mamma mia. Morti tutti e due. Ottimo. Ehi, qui non sono andati. Ottimo, bravissimo. E ho sbagliato come deficiente. No, ho sbagliato io. Mamma mia. Perfetto, dai. Ce la siamo chiamata per tutto bene. No, l'ho sbagliata, me la sono lanciata addosso. Eh, mi sono stato molto attento, infatti, eh. Sì, subito i diamanti, subito i diamanti che dobbiamo potenziarci tantissimo. Io c'ho notte di diamanti in questo momento. Posso potenziare la spada. Dammi un diamante per la spada. Mi hai dato? E ti. Ah, non l'avevo vista, erano invisibili. Allora, vedo che i gialli e le altre squadre hanno tutti quanti il letto intero. Quindi dobbiamo cercare di distruggere gli... Ok. Aspetta che... Eh, sei caduto. Eh, volevo killarlo l'altro, ma mi hai killato lui. Tutti e due sono caduti? No. Non so. Ammazzo il viola? Ok. Ammazzato. Non posso andare a distruggere il... Quello lì perché... È messo abbastanza bene. Però posso andare a prendere un po' di smeraldi. Sì, sta arrivando uno. Ed è caduto pure. Ma qua non c'è il letto, cavolo. Eh, sono caduto. Eh, sono morto. Eh, perché c'era un rosa. Eh, mi ha fregato. Ok, ho fatto cadere un celeste. Però aveva il... Però mi ha dato un diamante, almeno. Perfetto. Sperate che lo metto a posto. Oh, bravissimo! Perfetto. Ecco, i gialli sono andati. I gialli sono andati. Mancano soltanto i viola e i ciani. Quattro diamanti. Posso potenziare... Mi sono ucciso, praticamente. Aspetta che vado a potenziare la natura, visto che ne abbiamo bisogno. Aspetta. Eh, sono morto. Non importa, non importa. L'importante a me è non cercare di ammazzare gli altri, che sono rimasti solo i ciani e i rosa. Devo prendere i rosa? Sì, sì, c'è un viola da quella parte. Attento. Cazzo o mai ci penso io a farlo cadere. Ah, ma l'ho visto, l'ho visto. Eh, mi sa che si è salvato o non si è salvato? Ok. Ma è caduto, è caduto. Ci sono altri diamanti qua, eh? Ottimo, aspetta che mi faccio... Mi faccio potenziamento per il piccone. Bravissimo! Letto rosa. Aspetta che... Ok, ammazzato il rosa. Ottimo. Te occupi di te dell'ultimo. L'altro ammazzio? Occupi di te dell'ultimo, bravissimo. Eh, sono rimasti i ciani, ma i ciani non so dove stanno. Eh, io sì, so dove sono, però... È difficile raggiungerli perché non hanno ancora costruito... Cioè, non hanno un collegamento, non so come hanno fatto loro. Eh, ma hanno usato le fireball, ti voglio riportare. No, no, in realtà, guarda, c'è un collegamento qui. È lì, però, ma non per andare da loro. Cioè, loro dai bianchi ora, ora dai bianchi, dai bianchi. Dai bianchi. Dai qua, arrivo, arrivo, faccio il rivocio io. Passa dal bianco, passa dal bianco. Sì, passa dal bianco. Sì, sì, sì. Io ti aspetto qua e dopo ne andiamo ad ammazzare, ok? Ti dico questo. Che là c'è una nata fireball. Aspetta che... Non c'è io, non c'è io, non c'è io. Il poten... Ho potenziato intanto. Io è tutto, bravissimo! Aspetta che arrivo, arrivo, arrivo. Arrivo! Bravissimo! Vittoria! Ottima! Seconda vittoria consecutiva. Bravo Mastro! Bene! Mamma mia. Ok, raga, terza partita. Mamma mia! Non avevo mai fatto delle partite in questo modo, eh? Neanche io, neanche io. Eh, neanche tu? Dai! Se vede che oggi ci siamo molto allenati molto bene, comunque, nelle Bedloss. Eh, sì, sì. D'accordo. Va bene, allora. Devi fare un'altra partita, poi vediamo se possiamo fare anche la quarta. Poi se durerà tantissimo, potremo anche concluderla dopo, così, per il video. Allora. Sempre lo stesso procedimento. Vediamo un po' di poter vincere anche la terza. Anche i gialli, i gialli sono già qua da noi, i gialli sono da noi. Eh, allora, guarda. 5 mene per forza ammazzare quelli lì. Aiutami! Allora, uno l'ha ammazzato. Hai ucciso. Ucciso, ucciso. Ok, ok. Mamma mia. Allora, c'è un bianco da quella parte, c'è... Occhio. Ma Aker ha il bianco o sbaglio? No, è impossibile che Aker ha. Stanno arrivando, mi sa. Arriva giallo, giallo, giallo. Sì, lo so, arriva anche il bianco. Cacchiarola, guarda. Ok, spintonato. Mamma mia, manomale che l'ho spintonato. Ok. Allora, c'ho sottato in diamante e non mi può bastare. Però almeno posso mettere l'aria curativa, almeno. Ora, mi faccio anche delle fireball, per sicurezza. Perché qua dovrebbero arrivare per forza. Bravo! Aspetta che vengo anch'io! Vai! Distruggiglielo! No! Era già rotto! Pensavo che non era... Non era distruggito. No, no, io l'ho rotto, però l'ho ucciso. Ok, uno l'ho ucciso! Mamma mia, tutti e due l'ho fatta fuori! Ottimo! Top, top. Eh no, perché avevo visto prima la struttura dei gialli che era... Tipo ancora intera, non sapendo che l'ha già distrutto il letto. Vabbè. Perfetto, dai, non abbiamo eliminato i gialli. Questi non ci danno fastidio. Ci mancano soltanto... Aspetta, aspetta, fermo, fermo che mi faccio altre fireball. Eh beh, io nel frattempo vado a rompergli le palle. Va bene. Questa, perché mi dà le hit così? Spostati, spostati! Eh no, è troppo... Devi fare per forza il piccone, piccone. Aspetta, tu tieni a bada questo qui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Non lo faccio subito. Occhio, occhio. Te tieni a bada. Tieni a bada. Aspetta che non posso picchiarlo. Vai, vai, vai. Quattro piccone. Ci passo io. Spacca, spacca, spacca. Dall'altra parte, dall'altra parte. Spaccato. Mamma mia. Ok, uccidilo. Eh, sta scappando sto infame. Ce l'ho quasi, arriva lì. Spintonato! A cavolo, c'era un verde che poteva andare a distruggerci il letto ma non l'ha fatto, strano, eh? Ora, armatura e si va subito a prendere gli smeraldi ora. Mi sa che abbiamo la libertà di andare a prendere. Ah no, aspetta, aspetta. Subito dai rossi. C'è un verde che sta andando ai rossi e vado anch'io. Ok. Ah no, scusa, è un rosso che è dai verdi. Ah no, perché infatti vedo che i verdi sono senza letto, infatti. C'è un rosso da quella parte che sta arrivando verso dai verdi, credo. Vuole venire da me? Mica, se lo prendo. No! No! Potevo farlo cadere con la Fireball. Vabbè, a meno gli ho fatto... Eh, bravo, bravo. E gli avevo fatto un po' di danno, infatti. Vabbè, dai, pazienza. Ho cinque diamanti, eh? Ok, ottimo. Allora potenziasi qualcosa. Ok, quattro diamanti che non mi basterebbero per fare qualcosa. Veste direbbe... Vabbè. Vedo un attimo se posso potenziare qualcosa. E tanto io sono l'altro diamante. Eh, ma credo che posso potenziarmi l'armatura. Sì, sì, sì. Il livello 2 per forza. Altrimenti non potevamo fare nient'altro. Ora li vado a distruggere se ce la faccio. Faccio prima i rosa. Perché i rossi mi stavano abbastanza molto protetti per quanto riguarda il loro equipacciamento. Però vedo che i rossi stanno andando direttamente fuori dalla loro base. Quindi se riesco li aggiro e provo a distruggire il letto. Preso! Mamma mia! È caduto un rosso? Ottimo. Quanta roba mi ha dato, mamma mia. Eh, no. Sono lì davanti i rossi. Aiutami! Eh, ci sono. Non ci sono solo io, però. Mamma mia! Ci ho provato ad allontanarli. Per fortuna. Adesso vi faccio anche la mela d'oro. E li ammazzo. Mi è ricomparsa lì alla pozione, va bene. Ok! Mamma mia! Due di cuori! Devo per fortuna indietro! Ho dovuto ammazzare un rosso, però non ce l'ho fatta ad avanzare. Cavolo, abbiamo visto veramente di tanto. Credo di tante frecce, ma poi anche tante mele d'oro. Sono un po' di tagliardoni così qui. Sai cosa bisognerebbe fare? Ti dico una cosa. Quello che bisognerebbe fare, sperando che non mi lanciano la fireball. Ok. Ma non mi piazza i blocchi qua! Ma che cavolo di servere, ma dai! Ok, fatto cadere uno! Fatto cadere un rosso! Mi sto provando a frecciare. Ok! Fatto cadere un altro, perfetto! Allora, faccio così, guarda. Mi occupo di fammi. Ma loro stanno giocando alla vanilla, loro, eh! Chi? E non vedi che stanno costruendo le case, tra un po'? Stanno facendo praticamente una casa, proprio, vabbè. Visto che ho anche la TNT, proverei a fare questo, guarda. Ok, arrivano i rosa, io però sono nella loro cosa da solo. Non ci sono loro. Ci sono io, però. Ma il problema è che possono arrivare quando vogliono loro. Non sono interessati comunque a noi, sono interessati i rossi, credo. Allora, guarda. Ti dico il mio parere. Proverei a andare addosso in questo momento, prima che sia tanto tardi. Oh, bravissimo! Bravo, ok. Infatti è quello che volevo fare io, però ci ho pensato a te. Allora, è rimasto solo un rosa, ma tanto penso con le mazzone rossi. Quindi se mi rimasti sono tanto io e te... No, mi sono auto-ammazzato. Fa niente, fa niente, fa niente. Lui mi sono ammazzato. Gli acqua ci sono ancora. No, siamo noi i acqua. Sì, e noi siamo i ciali, appunto. Eh, cavolo, devo andare addosso. Eh, sono morto. Porca vacca, vabbè. Tanto lui è senza letto. Se riuscivo ad ammazzare era meglio. Eh, volevo fare quella mossa, ma non ce l'ho fatta. Dimmi che c'ho almeno... No, non c'ho purtroppo di diamanti. Quattro diamanti. Devo farmi proprio la spalla di diamanti. Ci sono qua, ci sono qua. Sono qua proprio dai diamanti. Mi faccio intanto la meradoro per sicurezza, visto che avevo bisogno di tante mele per curarmi. Tanto adesso l'arco non mi... È caduto il rosa lì. È caduto? Oh, perfetto. Mancano soltanto i rossi. Il problema di suggerire il letto è che è un po' un casino. Perché loro si sono fatti l'ossidiana. Perché loro sono qua, ma io li ho appena fatti volare giù. Ottimo. Uno che non è caduto e l'altro neanche. Va bene. Però il problema è che dobbiamo farci i picconi di diamanti, capito? Quindi avevo bisogno di tanto oro. È il problema che mi hanno ucciso. E stanno arrivando da noi e ci uccidono, sicuro. Sono già praticamente da noi. Aspetta, aspetta, allora. Ah, no, è te. Pensavo che fossero quelli lì. Eh, ma sono qua, sono qua. Sono arrivati, sono arrivati. Eccolo qua, eccolo qua. No, bastardo, mi ha lanciato la feccia addosso. E niente, niente, ce lo rompe l'altro. No, ce l'hanno isfutto. Mannaggia, ce l'hanno fatta. Guarda che non... Dai, non è morto il rosso dietro di noi. Ma com'è possibile? No, dai, questi qua te l'ho detto che Akron, te l'ho detto già prima. È mezz'ora che l'ho colpa di noi. No, sono morto. Cazzarola. Eh, vabbè, peccato. Bella partita, bella partita. Sei ancora vivo? Aspetta che vengo a vedere. Eh, erano molto bravi proprio i rossi. Cavolo. Ok, questi qua intanto... Guarda, se riesci a supervivere i rossi, ok. Perché non so se riuscirai direttamente a distruggire il letto. Però poi si può aspettare il deathmatch. Sta arrivando già un rosso da te. Sto attento, eh. Ok. No, hai sbagliato! Ho bisogno di piazzarlo! Hai sbagliato! Vabbè, peccato, dai. Comunque dai. Peccato, non mi ha piazzato il blocco. Oh, mi sono fatto 13 kill e tu 14. Siamo praticamente primi nella classifica delle kill. Va bene. Dai, ci può stare. E quindi niente, ragazzi. Abbiamo fatto almeno tre partite, due le abbiamo vinte e nell'ultima ci siamo militati in secondo posto. Ma almeno ce la siamo giocata veramente molto bene. Non avevo mai fatto queste partite così bene da quando ho giocato le bad. Te, Mastro, mi fai di no, no? Giusto? Eh, io ho qualcuna, sì. Però non così tante di fila. Beh, infatti è vero. Ad ogni modo, dai, direi che possiamo concludere qui per questo video nelle bad. Quindi mi raccomando, ragazzi, se volete vedere altri video delle bad. Come sempre, vi ricordo di lasciare un bel like, di condividere il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun video nel canale. E, naturalmente, come vi ho detto, troverete anche il link del canale di Mastro in descrizione se volete iscrivervi. Quindi, detto questo, raga, dal vostro Johnny Gainer e Mastro vi salutiamo e al prossimo video. See you next time!